Dai Luca vai, dai Luca vai, avete sentito? Dai Luca, adesso si può partire, è uscito dal cancelletto Luca De Librandi, 18 centesimi di vantaggio su Fevre, si prende un po' di spazio, qui leggermente un po' indeciso in queste prime porte, rischia tantissimo ma è ancora lì, leggermente più bassi rispetto alla prima manche per lui, bravo Luca, cerca di passare indenne, attento a non arretrare, molto stretto su quella prima porta della lunga, 26 centesimi, ha perso tanto, infatti i ritmi avevi ragione, è un po' più bassi rispetto alla prima, ancora è lunga, è un po' in difficoltà, ha perso per un attimo l'esterno, si un'azione un po' più statica, più rigida, più conservativa, dai Luca, qui sembra bene, però sale il distacco, 53 centesimi, attenzione Schwarz è secondo a 87 centesimi, anche arrivare alle spalle di Fevre, comunque vuol dire medaglia, anche qui attacco Romerlo, ha girato un po' troppo gli sci, c'è la tensione, c'è un po' di tensione, 55 centesimi, però siamo ancora in zona medaglia, deve arrivare davanti a Schwarz che ha 87 centesimi di ritardo, linee strette per lui, alte in uscita, spero che siano le più veloci, Forza Luca, ultima porta per Luca Deliprandini, arriva sul traguardo con 63 centesimi e secondo, è Luca Deliprandini, è sul podio, primo podio in carriera, arriva proprio nella giornata del mondiale, la giornata giusta, abbiamo sofferto oggi, abbiamo sofferto anche tutti questi anni nel vedere questo talento enorme, non riuscire ad arrivare sul podio, beh, finalmente arriva il podio nella giornata più importante, guardate questo traverso, poteva fare meglio, lo sa, lo sa anche lui quando andrà a analizzare la sua match, ma, grande, grande, mi tremano ancora le mani, qua ci ha fatto tremare, perché come vedete aveva perso un po' lo sci sinistro in uscita da quella curva, applausi da parte di Zubcic, che quindi scende dal podio, allora, finalmente arriva la medaglia per l'Italia,